Buongiorno colleghi, iniziamo con la nostra seduta. Avverto in via preliminare che secondo il parere della Giunta per il regolamento le audizioni informali possono essere trasmessi attraverso la web tv della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Vi chiamo quindi l'attenzione del nostro ospite su tale forma di pubblicità che sarà disposta dove da parte sua non vi siano obiezioni. Se non ci sono obiezioni, dispongo l'attivazione dell'impianto. Avverto che per la seduta odierna è stato predisposto un servizio di interpretariato in simultanea per le lingue italiano e inglese. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dell'ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, Dror Eidar, sulla prospettiva di parziale annessione di territori palestinesi da parte israeliana. Saluto e ringrazio l'ambasciatore per la sua disponibilità a contribuire ai nostri lavori. Ricordo che l'audizione è stata richiesta dall'ufficio di presidenza integrato da rappresentanti dei gruppi in connessione con il dibattito in corso a livello internazionale su quella parte di accordo programmatico per la nascita del nuovo governo di emergenza nazionale in Israele che prevede l'avvio di un percorso di modifica legislativa finalizzato ad estendere la sovranità israeliana sugli insediamenti in Cisgiordania nel solco dell'iniziativa sul Medio Oriente presentata dal Presidente Trump il 28 gennaio 2020. Tale modifica legislativa avrebbe dovuto essere presentata alla Knesset il primo luglio scorso. Tuttavia l'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu ha fatto sapere che l'iniziativa è rimandata e sarà valutata alla luce di ulteriori colloqui con l'amministrazione americana. Sulla decisione dell'esecutivo israeliano ha senz'altro inciso la ricrudescenza della pandemia da Covid-19 tanto in Israele quanto nei territori della Cisgiordania che sono stati sottoposti precauzionalmente a misure di lockdown. Tuttavia, oltre alle problematiche di salute pubblica, negli ultimi giorni sono emerse perplessità e riserve sul piano politico. In diverse dichiarazioni ufficiali il governo israeliano ha sottolineato che la mappatura dei territori da annettere non è ancora ultimata e che la data del primo luglio non è scolpita nella pietra. È stata altresì prospettata l'ipotesi di annettere solo tre colonie. Nella valutazione sulle iniziative da adottare pesa anche il silenzio dell'amministrazione USA a sua volta le prese con la crescita fuori controllo del contagio da Covid-19 e con le incertezze sulla rielezione del presidente Trump. In questo quadro sia il premier Netanyahu sia il presidente palestinese Abou Mazen si sono dichiarati disponibili a riprendere i colloqui. I palestinesi, che hanno annunciato ma mai diffuso un piano alternativo a quello di Trump e minacciato ritorsioni, hanno anche prospettato piccole concessioni territoriali. La rinuncia ad atti unilaterali e la ripresa di un dialogo costruttivo tra le parti è la linea da sempre perseguita dalla comunità internazionale che riporterebbe il negoziato nell'alveo del diritto internazionale e del quadro delineato dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. Una posizione condivisa dal governo italiano, come ribadito dal ministro degli esteri Di Maio nel corso delle comunicazioni sulle emissioni internazionali svolte il 25 giugno scorso. In quella circostanza il ministro ha dichiarato che l'Italia rivendica una soluzione sostenibile, realistica, giusta e direttamente negoziata tra le due parti nel quadro di una prospettiva a due Stati che tenga nella dovuta considerazione le legittime aspirazioni e necessità di entrambe. Aggiungendo che per facilitare la ripresa dei colloqui di pace, l'Italia ha espresso piena disponibilità a sostenere ogni iniziativa diplomatica insieme ai partner europei, regionali ed internazionali, a partire dagli Stati Arabi e dagli Stati Uniti, che rimangono un attore imprescindibile. Fatta questa breve premessa, do la parola all'ambasciatore affinché possa svolgere il suo intervento. Prego. Buongiorno, onorevoli deputati, grazie per avermi invitato a parlare con voi. Tutti noi desideriamo risolvere il conflitto israelo-palestinese e noi, israeliani, abbiamo provato a risolverlo molte volte. Gli accordi di Oslo si sono basati su una premessa fondamentale. Da entrambe le parti del conflitto ci sono due movimenti nazionali. Gli anni trascorsi da allora hanno insegnato che, mentre noi abbiamo riconosciuto il nazionalismo palestinese, loro non hanno mai riconosciuto il nostro. Per loro gli ebrei rimangono solo una religione e non una nazione e, pertanto, non hanno davvero diritto a un loro Stato, oltre al fatto che, sempre secondo loro, non esiste alcun legame storico tra i ebrei e la terra di Israele. E non sono allusioni, ma aperte affermazioni. Per esempio, ecco l'articolo 20 della Carta Nazionale Palestinese. Cito. La dichiarazione Balfour, il mandato per la Palestina, e tutto ciò che si è basato su di essi, sono considerati nulli. Le rivendicazioni di legami storici e religiosi degli ebrei con la Palestina sono incompatibili con i fatti della storia e con gli elementi costitutivi di uno Stato nel suo vero significato. L'ebraismo, in quanto religione rivelata, non è una nazionalità indipendente, né gli ebrei costituiscono una singola nazione con una propria identità, ma sono cittadini degli Stati in cui si trovano. Fine della citazione. Vorrei ricordarvi che questo non è Hamas, ma un documento ufficiale dell'autorità palestinese. Gli ebrei non sono una nazione. Il riferimento fisso in ogni dichiarazione europea rispetto all'unica soluzione possibile dei due Stati è diventata ormai una sorta di dogma intoccabile, ma in realtà questo dogma ha anche una seconda parte. due Stati per due popoli. Ciascuna delle due parti deve riconoscere l'altro popolo, il suo essere popolo, il suo carattere nazionale, la legittimità delle sue istanze. Non è così da parte dei palestinesi. E' vero, non abbiamo certamente bisogno di un riconoscimento da parte loro. E' ridicolo che un gruppo così recente pretenda di dire qualcosa sull'identità di uno dei popoli più antichi dell'umanità. Ma questo è in realtà un indice della sincerità delle loro intenzioni. Se non ci riconoscono come popolo e non riconoscono il nostro diritto storico e naturale almeno a una parte del Paese, questo conflitto non finirà mai. Questo spiega anche perché non hanno mai consentito a un accordo definitivo. Un accordo significa riconoscere gli ebrei come popolo e il loro diritto a una parte della terra. A un orecchio europeo sembra un dibattito semantico e concentrale, non una discussione sulla realtà. Errore. Meno di dieci anni fa, dall'ufficio di Saib Arikat, il caponegoziatore dell'ANP, trapelarono circa 17.000 documenti degli anni dei negoziati di pace. Questi documenti riflettono il dibattito interno palestinese. I membri della squadra negoziale avevano consigliato ad Arikat di non usare l'espressione due stati per due popoli, da cui si lascia intendere che i palestinesi riconoscono il diritto degli ebrei alla autodeterminazione. raccomandavano invece di dire, cito, due stati che vivono fianco a fianco in pace. L'autorità palestinese fa così ancora oggi. La logica che sta dietro a questa tattica è che, cito, menzionare il diritto di entrambi i popoli alla autodeterminazione può avere un impatto negativo sui diritti dei profughi, cioè il diritto al ritorno. E questo è il punto. Due stati, per loro, significa uno stato-nazione palestinese libero da ebrei, Judenrein, a fianco di uno stato che nel frattempo ha una maggioranza ebraica, ma che in futuro sarà inondato di palestinesi e muterà la propria identità. Pare sia questa anche la ragione per cui ad oggi non si sa ancora quali siano le richieste definitive dei palestinesi soddisfatte le quali saranno disposti a dichiarare concluso il conflitto e terminate le rivendicazioni. lancio questa sfida a chiunque intenda affrontare seriamente la questione. Ad oggi ciò che sappiamo sono le deduzioni derivanti dal dibattito della società israeliana su ciò che vogliono i palestinesi, anche l'Europa, discuti con noi senza sapere cosa vogliono veramente i palestinesi. Domando ancora, siete sicuri che i palestinesi vogliano uno Stato indipendente solo in una parte della regione occidentale della Palestina mandataria? per anni abbiamo fatto dipendere il nostro progresso in Medio Oriente dalla condizione dei palestinesi. Gli ultimi cento anni dimostrano che loro non hanno mai voluto scendere a compromessi. è un dato di fatto. Non hanno voluto nel 1937 con la Commissione PIL non nel 1947 con il piano di spartizione delle Nazioni Unite non nel 1967 dopo la guerra non nel 1993 a Oslo non a Camp David con Barack Clinton nel 2000 e nemmeno nel 2008 con la proposta del primo ministro e neppure nella primavera 2014 con il presidente Barack Obama. I palestinesi hanno sempre pensato che il tempo lavorasse a loro vantaggio. In effetti per anni ad ogni offerta che i palestinesi rifiutavano i negoziatori internazionali dicevano che se noi avessimo ceduto ancora un po' i palestinesi avrebbero firmato. Ma hanno sempre puntualmente rifiutato. Come ho detto prima non hanno mai detto che cosa li soddisferebbe? E non è un caso. Non hanno mai pagato il prezzo politico del loro continuo rifiuto. La richiesta da parte di funzionari in Europa di continuare a comportarsi così con i palestinesi ha portato Israele alla continua stagnazione. negli ultimi cento anni i palestinesi hanno detto di no alla coesistenza con Israele. Se lasciamo il nostro futuro a loro continueranno a non dire altro per almeno altri cento anni. Se c'è qualcosa che potrebbe forse riportarli al tavolo dei negoziati è la comprensione che il tempo non gioca più a loro favore. Forse è giunto il momento di pensare diversamente fuori dagli schemi preconcetti. Il piano di pace del Presidente Trump opera in quella direzione. Per la prima volta una nuova proposta per risolvere il conflitto trasmette il messaggio che il rifiuto palestinese ha un prezzo e anche che ci sono cose basiliari e cruciali per qualsiasi accordo futuro che si possono ormai portare avanti senza più attendere. La valle del Giordano è una barriera geografica naturale. Questo è il nostro confine più lungo e da lì si apre la strada a molti gruppi radicali che cercano di infiltrarsi e colpirci. Senza il nostro controllo della valle del Giordano molte armi entrerebbero indisturbate in Giudea e Samaria ponendo sotto gravissima minaccia la nostra fascia costiera stretta e densamente popolata. Un simile scenario non avvicinerà la pace ma porterà solo a un incremento del terrorismo contro i nostri cittadini. Se volete delle prove per ciò che dico ecco due esperimenti già fatti. Quindici anni fa abbiamo sgomberato la striscia di Gaza persino fino all'ultima delle nostre tombe. i palestinesi non si sono lasciati impressionare dalle serre che avevamo lasciato loro intatte e hanno usato i tubi di irrigazione come base per la produzione di razzi contro di noi con una serie di combattimenti ogni totdiani. Il risultato è che a Gaza c'è un stato islamico dittatoriale i cui abitanti vivono di aria e terrore. Al contrario in Samaria e in Giudea i palestinesi vivono in autonomia con le proprie istituzioni proprie leggi e un proprio bilancio mentre Israele mantiene il controllo della sicurezza e non proteggiamo soltanto noi stessi ma anche loro da elementi del terrorismo perché non facciano e facciano e lì la fine di Gaza. Il risultato siamo di fronte a una delle comunità relativamente più tranquille anche dal punto di vista economico di tutto il Medio Oriente. Tutti gli stati nazionali del Medio Oriente stanno collassando e al loro posto riemergono le forme primarie delle regioni le antiche strutture primordiali tribù comunità clan eccetera vi sembra probabile che a Ramallah riusciranno a stabilire uno stato nazione indipendente che non cadrà un minuto dopo la sua fondazione nelle mani di Hamas e di altri gruppi terroristici la maggior parte degli esperti della ragione lo capisce e tutte le agenzie di intelligence del mondo lo confermerebbero ma vi domanderò ancora di più supponiamo che noi abbiamo ragione solo per il 50% nella nostra valutazione del futuro della regione voi fareste affidamento su una probabilità del 50% rischiando di portare quello che sta accadendo in Libia in una regione a soli 15 chilometri da Roma questa è la distanza tra la Samaria e il centro densamente popolato di Israele con milioni di civili se c'è qualcosa che abbiamo imparato dalla storia e che non dobbiamo affidare la nostra sicurezza ad altri per cui su qualsiasi accordo futuro c'è un grande consenso in Israele riguardo alla vale del Giordano come nostro confine orientale anche Yitzhak Rabin di benedetta memoria lo considerava un confine sotto il controllo israeliano quella che altri definiscono anessione noi la chiamiamo estensione della sovranità di fatto la sostituzione della legge marziale ancora vigente dal 1967 con il diritto civile questa è una pietra fondante per qualsiasi futuro accordo di pace vorrei anche affrontare l'aspetto giuridico dell'estensione della sovranità l'applicazione della sovranità è in linea con il diritto internazionale qualsiasi altra affermazione dimenticare di prendere in considerazione una questione centrale i relativi diritti legali sulla questione non iniziano a essere calcolati dal 1967 ma dal 1920 i confini del medio oriente furono tracciati a sanremo nell'aprile 1920 furono assegnati i confini anche della alla terra di Israele allora chiamata anche Palestina questo è il nome che l'imperatore Adriano aveva cambiato al nostro paese nel secondo secolo pensando così di poter scendere il legame degli ebrei e giudei con il loro paese giudea Israele il mandato sulla Palestina includeva tutta la Palestina occidentale anche orientale prometteva agli ebrei i diritti nazionali e alle altre minoranze diritti civili e religiosi anche l'Italia lo ha firmato a sanremo per mano del presidente del consiglio nitti e per questo vi siamo grati il mandato è stato poi adottato all'unanimità da tutta la società delle nazioni il mondo intero ha riconosciuto ciò che i palestinesi non avrebbero mai riconosciuto che la terra di Israele apparteneva di diritto al popolo ebraico nei cento anni successivi il riconoscimento del diritto del popolo ebraico sulla sua antica terra da parte delle nazioni del mondo non è stato annullato nemmeno l'ONU ha cambiato questa situazione ma anzi dichiarato esplicitamente che i diritti concessi nell'ambito della società delle nazioni sarebbero rimasti fermi e validi posso posso capire che le azioni israeliane possano contraddire le opinioni di qualcuno a Bruxelles ma con tutto il rispetto la posizione del European External Action Service non è legge e ancora l'estensione della legge israeliana sui territori non esclude i negoziati ricordate che anche dopo l'estensione della legge israeliana sulle alture del Golan i governi israeliani hanno continuato a negoziare con Assad padre in conclusione voglio ribadire che apprezziamo molto il vostro desiderio di contribuire a promuovere la pace e la stabilità nella nostra regione nel contesto palestinese il contributo più importante può essere quello di trasmettere ai palestinesi un chiaro messaggio che è giunto il momento di riconoscere lo stato nazione del popolo ebraico di riconoscere il semplice fatto che il nostro rapporto storico con la terra santa è più chiaro e più solido di qualsiasi tentativo di reciderlo per mezzo del terrorismo forse è così che finalmente accetteranno di sedersi con noi per negoziare la fine del conflitto a beneficio delle generazioni future grazie grazie ambasciatore aprirei adesso alle richieste di intervento da parte dei colleghi sia presenti che collegati online il primo iscritto a parlare è l'onorevole Orsini che ci segue da remoto buongiorno presidente buongiorno ambasciatore io ho ascoltato con grande interesse la sua relazione che d'altronde corrisponde forse l'ambasciatore avrà bisogno delle cuffie un secondo solo collega che l'ambasciatore permettiamo di audire con le puffe l'inglese sul canale 2 proviamo se funziona così l'ambasciatore ci segue l'inglese vediamo no non funziona l'inglese è sul canale 2 l'inglese è sul canale 2 l'italiano è sul canale 1 qui l'inglese è sul canale 1 po' l'inglese è sul l'inglese è sul canale 2 Grazie Presidente, buongiorno ambasciatore, mi spiace di non poter essere presente ma ho seguito con grande attenzione la sua relazione, lei sa che io personalmente e noi di Forza Italia siamo sempre stati dalla parte di Israele non perché in questo conflitto noi dobbiamo prendere una parte ma perché riconosciamo in Israele una realtà, uno Stato, una nazione che condivide e compartecipe parte integrante del mondo libero dell'Occidente come noi lo intendiamo delle democrazie liberali dell'Occidente e forse l'unico Stato nella drammatica realtà del Medio Oriente che si identifica pienamente in quella che noi intendiamo come civiltà liberale come civiltà occidentale. Questo non toglie naturalmente che anche la parte palestinese abbia dei legittimi diritti che meritano di essere tutelati. Io ho ascoltato la scorsa settimana la rappresentante dell'autorità nazionale palestinese che è venuta in commissione e che ha illustrato con argomenti dal suo punto di vista senza dubbio convincenti le sofferenze e le difficoltà del popolo palestinese. Quello che io mi sono permesso di far osservare all'ambasciatrice e mi permetto di ripetere a lei è che tale difficoltà non dipendono necessariamente da Israele. Forse dipendono soprattutto dall'impossibilità di raggiungere una pace le cui impossibilità le cui ragioni sono molte e sono complesse. E tra queste c'è sicuramente il diritto di Israele di vedere non compromessa e non messa in pericolo, come abbiamo giustamente ricordato oggi, la sua sopravvivente e il suo diritto di esistere. A parole l'autorità palestinese, quella di Ramallah, che intende sia a massa, è un discorso completamente diverso, riconosce questo diritto. Nei fatti però non esclude affatto la collaborazione con tutta una serie di realtà che invece questo diritto lo mettono fortemente e gravemente in pericolo. Ancora oggi a Corriere la suprema autorità dell'Ira, l'Eatollah Khamenei, ha ribadito che la distruzione di Israele è fra i loro obiettivi. Io mi sono permesso di chiedere la settimana scorsa alla rappresentante palestinese se fosse in grado di prendere le distanze da queste affermazioni, se fosse in grado di prendere le distanze da ogni collaborazione con l'Iran, da ogni collaborazione con movimenti come Hamas o Hezbollah che praticano il terrorismo come arma di lotta politica, se fosse possibile una vera cesura tra la rappresentanza palestinese e chi vuole la distruzione di Israele. Naturalmente, devo dire, la cosa non mi ha stupito, l'ambasciatrice mi ha solo risposto che non è questo il problema. E come invece credo che il problema sia proprio questo? Mi piacerebbe conoscere anche la sua valutazione in merito. In che misura tutta la minaccia contro Israele che viene da una serie di fattori esterni, ho citato l'Iran, ho citato il Mollah, ho citato Hamas, rende ancora più difficile il dialogo con l'autorità palestinese? E a quali condizioni si potrebbe riprendere questo dialogo se ci fosse una cesura, una presa di distanza netta dal terrorismo e dalla violenza? Grazie. Grazie. Adesso abbiamo iscritto a parlare l'onorevole Fassino. Grazie. Naturalmente ringrazio l'ambasciatore. Solo una nota per i colleghi. Chi chiede di essere ripreso dalla web tv deve intervenire dal podio. Vengo. Se no vi sento solo da casa e non vi vedono. Va bene, io ho acceso. Ringrazio naturalmente l'ambasciatore per il suo intervento, molto articolato, molto anche chiaro e netto nelle posizioni. Questo favorisce la discussione. E nel suo discorso lei ha posto una serie di questioni che personalmente penso siano da considerare. In particolare il punto su cui lei ha insistito è che la possibilità di avere una soluzione di due stati è fondata sul riconoscimento dell'esistenza dei due popoli. E mi pare che questa questione ha un senso. Il punto che io le voglio però rappresentare è come si arriva a questo riconoscimento e qual è la strada per una soluzione. Perché quello che io penso suscita nella comunità internazionale preoccupazione e anche non condivisione è procedere per atti unilaterali. E il procedere per atti unilaterale sta cambiando la base del negoziato perché fino ad oggi nella comunità internazionale la base del negoziato è stata fondata sulle risoluzioni delle Nazioni Unite. E in particolare sui quattro punti indicati dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. Confini del 67 poi mitigati successivamente con la formula con scambio di terra. Gerusalemme capitale dei due stati. Una soluzione che è più di indennizzo che non fisica per i profughi. Risoluzione delle Nazioni Unite, questo dicono. Dalla 2.62 in avanti. Dalla 2.62 in avanti. Non conosco. Beh, gliela invierò. E tutte le trattative sono state fin qui. Tutti i tentativi di negoziati sono stati fondati su questi quattro punti. Procedere per atti unilaterali. Estensione delle colonie. E' stato un atto unilaterale in questi anni. La popolazione degli insediamenti ebraici in territorio palestinese, in territorio di Cisjordania palestinese, ha raggiunto le 650.000 unità quando era di 150.000 persone. Proclamare Gerusalemme capitale unica e indivisibile dello Stato di Israele è un altro atto unilaterale. Decidere di annettere. Lei ha detto estensione della sovranità. Ma guardi che in italiano l'estensione della sovranità e l'annessione sono formule aziottovolmente equivalenti. Perché se estendo la sovranità, annetto un territorio. Ma comunque, adesso a parte le questioni semantiche, è stato un altro atto unilaterale. Conseguenza. Secondo me, l'operazione che, vorrei capire da lei, il governo israeliano sta facendo è quella di cambiare il terreno di gioco. E cioè creare una situazione di fatto in cui non è più il confine del 67 è un riferimento perché con l'annessione del Giordano non esistono più. Legittimando gli insediamenti e facendoli diventare territorio israeliano, anche il problema delle colonie trova una soluzione unilaterale. Il problema di Gerusalemme è già stato risolto unilateralmente. Non c'è più la base su cui si è discusso in questi anni. Perché Oslo, poi gli accordi di Washington, poi i tentativi a Camdevi fino ai tentativi di Annapolis assumevano una certa piattaforma, una certa base. In questo modo il governo di Israele ha deciso, naturalmente è legittimo che lo faccia, ma bisogna essere consapevoli di questo, di cambiare radicalmente diciamo la base di riferimento per un negoziato. Perché se, poi adesso è sospeso e io mi auguro che non si proceda, ma se si annette la Valle del Giordano, si estende la sovranità israeliana agli insediamenti e su Gerusalemme la scelta è già stata fatta, la base di un eventuale possibile negoziato futuro non è più quella che si è discusso fino ad oggi. È la condizione di fatto che si è determinata con gli atti unilaterali. si cambia il terreno di gioco. Non è illegittimo farlo, bisogna essere consapevoli che è questa la questione. Cioè, quindi non è una questione di natura tattica e momentanea. E quindi a me interessa sapere esattamente se questa è diciamo la strategia israeliana. Cioè, un eventuale negoziato si fa a partire da un mutamento della situazione sul terreno. e sono stati messi in essere su Gerusalemme con gli insediamenti delle colonie e possono essere messe in essere con l'estensione della sovranità alla Valle del Giordano e alle colonie scelte che cambiano il terreno di gioco. Cambiano la piattaforma della discussione. Poi, questo non significa che sia impossibile un nuovo negoziato per carità. Però bisogna sapere che è un negoziato che viene impostato su basi radicalmente a diverse rispetto a quelle su cui sono stati impostati i negoziati riusciti o falliti fino ad oggi. Quindi bisogna avere consapevolezza di questo. E allora io mi chiedo e finisco è del tutto legittimo che Israele voglia la Valle del Giordano piuttosto che un'altra fa parte? Non è illegittimo pensare nulla. ma perché non cercare di conseguire questi risultati con un negoziato anziché con un atto con una unilateralità? Per esempio, siccome è entrato ormai ed è accettato da tutti il fatto che i confini del 67 possono essere con modifiche con scambio di terre io mi chiedo perché il governo israeliano non può andare a un tavolo di negoziato e dire nella formula la scambio di terre noi vogliamo porre la questione di una sovranità sulla Valle del Giordano ma un conto è che il confine del 67 e il scambio di terre siano figli di un accordo consensuale negoziato che poi è stabile perché una volta che un accordo si è fatto viene riconosciuto altro conto è l'unilateralità perché l'unilateralità fa sì che una delle due parti non riconosca l'atto e nel momento in cui uno lo riconosce continuerà a contestarlo e questo sarà fonte di continui conflitti dopodiché io è chiaro condivido molte delle considerazioni che lei ha fatto sulle ambiguità di parte palestinese sugli errori che sono stati compiuti l'errore principale secondo me di parte palestinese è che ogni trattativa ogni negoziato che si è tentato ha detto di no sperando di prendere di più il giorno dopo la realtà è che ogni negoziato gli dà di meno e quindi se avessero preso quello che Baragli ha proposto a Ken David oggi non saremmo qui tanto per dirne una quindi sono consapevole del fatto che l'interlocutore ha commesso molti errori però attenzione siamo di fronte a un bivio o si continua a perseguire una strada negoziale e allora però una strada negoziale esclude l'unilateralità degli atti oppure si sceglie l'unilateralità però bisogna sapere quali sono le conseguenze grazie grazie nel dare la parola al prossimo collega informo che ora c'è la possibilità di intervenire e di essere ripresi dal proprio posto senza dover venire sul podio solamente l'onorevole Fassino ha avuto questo privilegio la parola ora all'onorevole Cirielli prego buongiorno ambasciatore innanzitutto copigruppo siamo particolarmente soddisfatti che lei ha avuto modo di ribadire un concetto che per noi è molto importante e il concetto due popoli due stati riteniamo questo da parte di Israele un fatto molto concreto e significativo nella strada della pace e delle trattative tra i due popoli d'altro canto siamo perfettamente convinti ma dovrebbe essere una cosa del tutto voglio dire intuitiva che a base di ogni trattativa bilaterale ma anche internazionale dovrebbe esserci il concetto che i palestinesi a cominciare dall'autorità nazionale palestinese riconoscano il diritto all'esistenza dello stato ebraico aggiungo sono anche siamo anche convinti come partito ma anche personalmente l'ho sempre pensato che soprattutto le trattative bilaterali da parte dei due stati sono quelle che possono portare avanti concretamente la pace l'idea che qualche volta soprattutto in campo occidentale si è pensato di voler forzare la mano a Israele sostenendo la parte palestinese non ha portato concretamente nessun passo in avanti verso la pace anzi ha incoraggiato l'autorità palestinese in genere il popolo palestinese a immaginare che con la forza si potessero ottenere dei risultati abbiamo visto come è andata a finire d'altro canto è anche un fatto storico che finora dagli accordi di Oslo in poi è stato lo Stato israeliano che ha fatto concessioni unilaterali visto che si è parlato di atti unilaterali grazie alle concessioni unilaterali di Israele si è potuta creare l'autorità nazionale palestinese che ha una giurisdizione territoriale grazie alla cessione e all'abbandono unilaterale che Israele ha fatto della striscia di Gaza si è costruita un'altra realtà territoriale purtroppo questi due atti unilaterali di pace da parte di Israele non hanno portato la pace perché da una parte Gaza è diventato un inferno innanzitutto per i palestinesi che vivevano dal punto di vista economico e delle libertà assai meglio sotto il governo e l'amministrazione israeliana ma da quei territori sono partiti attacchi terroristici e attacchi anche militari veri e propri atti di guerra da parte di questa organizzazione terroristica Hamas che anzi farebbe bene anche l'Italia a prendere seriamente in considerazione la giusta definizione di questo gruppo di persone che peraltro sappiamo sono etero dirette da altre nazioni che non hanno neanche nessuna forma di interesse geografico sul territorio perché non confinano con la Palestina e mi riferisco innanzitutto all'Iran la stessa autorità nazionale palestinese sebbene assunto atteggiamenti più moderati alla fine finisce spessissimo per convivere con i terroristi di Hamas e comunque a non prendere le distanze a non condannare e i loro atti e le loro dichiarazioni in questo quadro la vicenda della Valle del Giordano assume secondo noi una valenza diversa è chiaro che dal punto di vista prima ancora dei diritti che lei giustamente ha ricordato sul piano del diritto internazionale esiste una questione di sicurezza la conformazione geografica il suo incuniarsi all'interno dello Stato israeliano la sua prospicienza la Siria rappresenta fanno sì che quella realtà geografica sia essenziale per la sicurezza strategica di Israele e secondo noi la sicurezza strategica di Israele non è soltanto una sicurezza strategica di un alleato fondamentale per l'Italia quale Israele ma è una sicurezza strategica di tutta l'area è evidente che Israele in una situazione di grave pericolo militare e antiterrorismo rappresenta non soltanto un pericolo secondo noi per il mondo libero e per la democrazia nel mondo ma rappresenterebbe un pericolo per tutta l'area perché ovviamente uno Stato minacciato messo nell'angolo come Israele reagirebbe adeguatamente ma d'altro canto penso che anche gli amici giordani non sarebbero poi così felici di un abbandono da parte di Israele di quella valle è evidente che lo Stato giordano sarebbe gravemente minacciato da un'instabilità della sponda occidentale del Giordano in questo momento Israele indirettamente fornisce sicurezza anche alla Giordania e a tutta l'area io credo che il passo giuridico che Israele vuole compiere rappresenta un elemento di stabilità d'altro canto la storia dei trattati internazionali ci insegna che a ogni passo ci possono essere passi a lato o passi indietro quindi credo che questo non comprometta nel futuro accordi su basi diverse sincere e spontanee con i palestinesi che possono garantire una pace duratura per l'area e chiaramente dato l'importanza dell'area dal punto di vista mondiale per tutto il mondo grazie chiede ora di intervenire l'onorevole Boldrini prego grazie signora presidente grazie signora ambasciatore mi ha fatto piacere ascoltarla ecco collega ursini diceva io sto dalla parte di israele non so se intendeva dalla parte del governo israeliano non lo vedo più il collega non so era in collegamento ecco io penso che per riuscire a essere utili in un contesto così diciamo articolato bisognerebbe essere vicini alle persone più che diciamo a questo o quell'altro governo bisognerebbe riuscire a farsi interprete di un bisogno di pace che c'è sia in israele sia in palestina ecco le persone comuni chiedono questo chiedono pace chiedono miglioramento delle condizioni di vita a tutti i livelli questo accade a gaza come a tel aviv ora dire so con israele cosa significa israele un paese composto da tante realtà ci sono coloro che sostengono ecco la possibile annessione e coloro che sono contrari a questa annessione noi abbiamo visto migliaia di persone scendere in piazza contro questa annessione abbiamo visto intellettuali esprimersi apertamente contro questo piano detto del secolo abbiamo visto un ex presidente della Knesset Abramburg mandare un appello ai parlamentari di altri paesi per unire le forze e fare pressione sul governo Netanyahu per evitare che questa annessione possa avere come dire possa andare avanti ecco quindi penso che dovremo dovremo in qualche modo eh prendere atto anche di queste istanze non ho fatica faccio fatica a capire come un progetto unilaterale possa portare pace la pace dovrebbe nascere da appunto da un confronto paritario e da un terreno comune condiviso difficilmente potrà esserci pace quando è solo una parte a promuovere un approccio che non tiene in conto le esigenze di un'altra parte perché quello che l'ambasciatore definisce come un'estensione di sovranità per l'altra parte cioè i palestinesi è una violazione dei loro diritti così come previsti dalle risoluzioni delle Nazioni Unite così come previsti dal diritto internazionale altrimenti non si spiega perché signor ambasciatore in tanti paesi occidentali giusto appunto si sono mossi parlamentari per passare dei messaggi ai loro capi di governo per fare in modo di distogliere e di far ripensare il presidente Netanyahu da questa idea dell'annessione l'hanno fatto colleghi in altri paesi l'abbiamo fatto noi con una lettera a presidente Conte 70 deputati e deputate di vari orientamenti politici a dire di esercitare appunto una moral suasion sul presidente Netanyahu perché questa annessione non ci sia se tutto il mondo è preoccupato signor ambasciatore ci sarà un motivo perché altrimenti cioè come dire siamo tutti così strani siamo tutti inclini alla preoccupazione quando non ce n'è un motivo a me stupisce il fatto che non si possa da parte sua intravedere una motivazione di preoccupazione in questo secondo lei ci guadagneranno gli israeliani ci guadagnerà la sicurezza dell'intera regione a mio avviso no questa annessione unilaterale va a detrimento di tutti inclusi gli israeliani per questo allora assisto dalla parte degli israeliani così come sono dalla parte dei palestinesi che non vogliono ulteriore tensione ulteriore insicurezza ulteriore instabilità allora quello che noi cerchiamo di dirle almeno per quanto mi riguarda è di come dire considerare questo programma questo progetto come un progetto che potrebbe anche sortire appunto una delle conseguenze opposte a quelle che lei ci diceva perché è un un'iniziativa unilaterale perché non prende in considerazione le motivazioni degli altri perché molto probabilmente causerà ulteriore problemi ulteriori di stabilità quindi noi in questa in questa camera proprio perché ci sta a cuore la pace ci sta a cuore la sicurezza del popolo israeliano e del popolo palestinese abbiamo anche voluto istituire un intergruppo e invito i colleghi e le colleghe a unirsi a noi per la pace in Medio Oriente proprio per riuscire nel nostro ambito certamente a rimettere al centro questa tematica in un momento in cui se si dovesse andare avanti per la strada dell'annessione tutto questo verrebbe rimesso in discussione perché è difficile poter dire che tutto intorno a Israele è guerra e in Israele le cose vanno bene non vanno bene non vanno bene perché i razzi da Gaza non vanno bene e poi la pace non è solo assenza di guerra la pace signor Ambasciatore è collaborazione cooperazione economica cooperazione culturale è vicinanza e quindi noi riteniamo che ci sia molta strada da fare in questo senso e nell'ambito delle nostre possibilità cercheremo di fare la nostra parte grazie grazie adesso diamo la parola all'onore Ole Cabras grazie Succellenza l'Ambasciatore ha disegnato in modo molto chiaro il progetto che sta dietro questa estensione della sovranità questa annessione di terre della Cisgiordania è un progetto nazionalistico è un progetto di una nazione che si presenta nel contesto del mondo e innanzitutto ai suoi vicini come una nazione che chiede un rispetto per il suo essere nazione è un progetto nazionalistico classico che ha attraversato la storia di tante nazioni compresa l'Italia fra poche settimane qua si ricorderà l'estensione della sovranità dello Stato italiano a questa città a Roma che prima non ne faceva parte ci sono movimenti di classi dirigenti nei vari paesi che definiscono qual è il confine di un popolo quali sono le sue caratteristiche chi fa parte di quel popolo e come deve essere difeso ecco puoi ripetere questo concetto che fra poche settimane qui si ricorderanno i 150 anni in cui l'Italia che non comprendeva Roma e i territori circostanti tutto il Lazio estese la sovranità a questo pezzo del territorio e chi guidò questo processo era una classe dirigente che aveva definito cos'era popolo italiano cos'era territorio italiano e aveva forzato in quel caso una situazione internazionale invadendo Roma estendendo la sovranità dietro cosa c'era c'era un progetto di una classe dirigente che definiva cos'era popolo cos'era il popolo italiano l'hanno fatto tante altre nazioni nel mondo lei quindi fa riferimento anche a un concetto di popolo il popolo ebraico che ha una sua lunghissima continuità storica vero che ha un legame con la terra di cui stiamo parlando storicamente la Samaria e la Giudea erano territori in cui migliaia di anni fa viveva una popolazione autoctona ebraica però i popoli sono anche un'entità artificiale in una certa misura quando si deve definire quali sono i loro confini come si rapportano ad altri popoli lì nel frattempo c'è stata una storia lunga in cui anche un'altra popolazione può pienamente legittimamente sotto ogni punto di vista considerarsi autoctona per cui abbiamo il paradosso adesso di una classe dirigente che definisce una continuità millenaria del popolo ebraico che giustifica che una persona nata nel Kansas possa arrivare lì come colono prendere un ulivetto che una persona locale aveva ereditato da suo nonno e dire io qua sono di casa perché questa è casa mia c'è una artificialità in questo modo di concepire il rapporto fra il popolo la nazione e il territorio è un peccato che abbiamo commesso tutti in tutto il mondo tutte le nazioni hanno fatto queste forzature non siete esenti come classe dirigente israeliana da questa artificialità quindi state proponendo una soluzione a una questione molto complessa storica ricchissima in cui davvero certo tutti sono di casa lì con una soluzione ottocentesca cioè del diciannovesimo secolo l'estensione territoriale l'estensione di un territorio che si mette in sicurezza a scapito di un altro popolo io credo che questo tipo di soluzione sia old fashioned fuori tempo massimo è una soluzione che non è adatta al ventunesimo secolo non per quella situazione la guerra dei trent'anni non si chiamò così all'inizio la si chiamò così dopo che era durata trent'anni e così la guerra dei cento anni oggi abbiamo avuto già cento anni di conflitti nell'area della terra santa se si forzano le condizioni in questo modo con questa annessione si pongono le condizioni per altri cento anni di instabilità di guerre di ingiustizie quindi quello che abbiamo fatto anche con una richiesta di intervento rivolta al governo italiano e al governo israeliano è quella di ritornare a una situazione di giustizia di non concepire solo un diritto di tipo nazionalistico e di avviare un negoziato serio in cui non ci sono imposizioni unilaterali lei ha ricordato Gaza le serre lasciate intatte che poi sono servite per fare materiali per guerra impropria per armi improprie io vorrei ricordare che Gaza prima commerciava agevolmente con il mondo e quindi le derrate alimentari prodotte nelle serre lì potevano circolare liberamente dopo che è stata chiusa quelle merci non potevano più circolare e quindi quelle serre non servivano più a nulla non si può ottenere giustizia se si fanno delle imposizioni unilaterali e bisogna cercare di offrire forza negoziale alle persone con cui si negozi altrimenti vince Hamas grazie adesso la parola all'onorevole Lupi grazie anche io ringrazio l'ambasciatore per la sua presenza le chiedo scusa sindora se non ascolterò la sua risposta perché abbiamo commissione di bilancio e quindi devo scappare dall'altra parte ma leggerò con attenzione il resoconto però voglio farle tre domande perché io credo che oggi più che mai questa audizione ci deve permettere di comprendere fino in fondo come mai il governo di Israele sta seguendo questa strada con la premessa fatta anche dagli altri colleghi che è stata molto chiara lei nel riconoscere il principio condiviso da tutti noi due stati due popoli e l'altro principio ancora più forte che è quello da sempre del riconoscimento dello Stato-Nazione del popolo ebraico di Israele che non può essere solo riconosciuta come religione ma deve essere riconosciuta al pari di tante altre come identità di nazione come identità di Stato allora e quindi l'amicizia credo dell'Italia di tutti noi nei confronti di Israele da sempre testimoniata non viene messa in discussione le domande sono proprio per comprendere io un po' lei lo ha accennato anche con forza nella sua relazione la prima domanda è molto specifica che cosa ha fatto scattare questo cambio di strategia questa scelta ovviamente pesante difficile del piani di annessione della Cisdordania come mai si sceglie un'altra strada le conseguenze di questa di questa strada ovviamente immagino saranno state considerate pianificate quali conseguenze vi aspettate come governo cioè noi stiamo Parlamento sta cercando di comprendere la scelta che il governo israeliano ha compiuto non credo che sia voglio dire improvvisamente si sceglie una strada di questo genere quindi le conseguenze sono state calcolate previste è evidente che la preoccupazione per esempio che abbiamo ricevuto tutti da parte delle Nazioni Unite cioè delle conseguenze che questa cosa può accadere credo sia una preoccupazione di tutti compresa ovviamente la stessa preoccupazione del governo israeliano e quindi le due domande sono una connessa all'altra perché questo cambio di strategia questioni accennato il problema del terrorismo questioni di minaccia voglio dire vorrei capire ancora di più e meglio da lei queste ragioni e se avete valutato e quali conseguenze vi aspettate come come governo rispetto a questa scelta la seconda domanda è già stata accennata tra l'altro da alcuni altri colleghi normalmente quello che ci ha sempre colpito era l'unità del popolo israeliano rispetto ad una posizione netta e chiara che è quella che lei ci ha enunciato il riconoscimento dello Stato di Israele la forza della dignità forte e coerente di questa battaglia che da noi da me personalmente è condivisa oggi almeno dai documenti che ci arrivano qui alla Commissione parlamentare mi sembra che la coesione interna su queste scelte politiche interna non sia così forte ci sono posizioni nel Parlamento diverse eccetera mi piacerebbe capire ovviamente da lei che è l'ambasciatore di Israele come questa scelta viene condivisa vissuta all'interno dello Stato della vostra nazione del Parlamento e dello Stato di Israele detto questo le ribadisco ovviamente che le domande sono per comprendere perché la preoccupazione di costruire la pace e di arrivare a riconoscimento come due Stati due popoli e ci siamo sempre stati al fianco e quindi lo faremo però credo che sia giusto comprendere e esternarle le preoccupazioni nostre ho capito bene la sua sconza chiede qual è l'opinione in Israele riguardo a questo piano l'ha accennata la collega Boldrin autorevoli anche all'interno del Parlamento mi piacerebbe capire comprendere meglio questa situazione anche perché normalmente la mia percezione è sempre stata una grande unità del nazionale rispetto a queste scelte grazie abbiamo ancora quattro interventi il prossimo è quello dell'onorevole migliore prego grazie signora presidente presidente grazie signora presidente grazie signora ambasciatore per il contributo al dibattito che lei ha offerto con la sua relazione in questa sede è del tutto evidente che noi rappresentiamo delle posizioni che hanno un interesse legato sia allo sviluppo delle eccellenti relazioni che esistono tra i nostri due paesi sia la comprensione di elementi rispetto ai quali l'opinione consolidata dell'opinione consolidata dei singoli parti che in questo momento si confrontano non può certamente essere modificata attraverso una discussione ma può essere implementata da considerazioni la nostra organizzazione il nostro partito e io stesso siamo convinti da sempre della necessità del riconoscimento non solo del percorso politico che porta alla creazione di due stati per due popoli ma a riconoscimento sostanziale della sovranità e del diritto all'esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele peraltro abbiamo espresso anche io personalmente molte volte preoccupazioni per l'atteggiamento ostile che è stato manifestato anche da organizzazioni nazionali da veri e propri stati sovrani per ultimo le dichiarazioni peraltro molto frequenti della massima autorità iraniana in merito alla necessità di distruggere Israele questo è una premessa necessaria rispetto alla quale io ritengo sia fondamentale che non ci siano equivocità di noi così come è del tutto evidente che noi abbiamo contezza delle sofferenze che patiscono i due popoli e il popolo palestinese con una progressione di difficoltà che sono che hanno inciso tanto sulla loro vita quotidiana tanto sul permanere di uno stato di incertezza e anche di crisi che non ha giovato ovviamente alla sicurezza nell'area io vorrei fare solo due considerazioni rispetto ad un contesto che condivido con altri colleghi in particolare mi è sembrata molto opportuna la definizione di un chiarimento rispetto agli atti unilaterali che ha sottolineato il collega Fassino la prima considerazione è di carattere generale in relazione a chi ha proposto questo piano di estensione della sovranità o di annessione anche io mi permetto di dirle che per quanto ci riguarda è analoga il significato e cioè il piano si chiama piano Trump è stato proposto ed è stato avanzato all'interno di una discussione bilaterale con il presidente Netanyahu ma Trump si misurerà con le elezioni da qui a qualche mese e quindi potrebbe eventualmente anche cambiare l'orientamento dell'amministrazione statunitense ritengo quindi importante che si possa definire un percorso di pace che non venga caratterizzato o comunque influenzato questa è la mia opinione da elementi estranei o comunque diciamo così ulteriore rispetto a quelle che sono le necessità della promozione della pace all'interno di quell'area in particolare nel conflitto israelo-palestinese che possono riguardare anche interessi di carattere elettorale è del tutto evidente che a fine mandato questa iniziativa del presidente Trump a mio giudizio entra in pieno nella campagna elettorale degli Stati Uniti e quindi da questo punto di vista mi chiedo se anche dal vostro versante non sia una considerazione sulla quale porre una riflessione la seconda riguarda le considerazioni fatti da un autorevolissimo non ho capito bene qual è la sua domanda non pensiate che essendo un piano proposto da Trump che è in piena campagna elettorale se è connesso all'elezione la seconda valutazione la faccio mia sulla base delle dichiarazioni che recentemente ho letto di un autorevole rappresentante israeliano protagonista anche del trattato di Oslo Joel Singer che sostanzialmente cita l'articolo 31 paragrafo 8 dell'accordo interinale israele olp che stabilisce che lo status della cisgiordania e della striscia di gaza sarà mantenuto durante il periodo interinale inoltre che l'accordo contiene l'impegno che nessuna delle parti avvierà o farà qualsiasi passo che cambierà lo status della cisgiordania e della striscia di gaza in attesa dell'esito dei negoziati sullo status permanente articolo 31 paragrafo 7 se cioè nel vostro cambio di strategia vi sia anche una di fatto disconoscimento di quello che sono gli accordi di Oslo che anche lei oggi ha citato come elemento fondamentale e partenza essenziale nella ricostruzione di un percorso di pace credo che questo sia una domanda specifica sulla quale diciamo indipendentemente dalle opinioni di ciascuno sia utile conoscere la vostra opinione grazie sono rimasti solamente tre interventi c'è la collega M chiede ad essere telegrafica perché poi deve spostarsi in un'altra commissione prego grazie presidente grazie a tutti i colleghi grazie all'ambasciatore purtroppo dovrò scappare quindi ascolterò poi la sua risposta nel resoconto una domanda molto semplice mettiamo la situazione sia rovesciata ambasciatore pensiamo al deal of the century e pensiamo che è l'America a fare un deal con la Palestina sugli esiti di Israele pensiamo all'annessione pensiamo alla proposta da parte della Palestina di annettere parti di Israele lei ha detto due stati dogma intoccabile parliamo di in questo momento uno stato che è presente parliamo di un altro stato che attualmente non è in gran parte da tanti stati non è riconosciuto sono territori occupati ha anche detto che ciascuno deve riconoscere la legittimità delle proprie istanze non potrei che essere d'accordo con lei ma questo vale ovviamente per entrambi ha detto le armi che sono che sono entrate indisturbati che possono entrare indisturbati eventualmente questo vale anche per lo Stato di Israele abbiamo una situazione dove per l'appunto lo Stato di Israele ha un arsenale molto ampio di armi mi ricordo che in commissione io proposi a un gentile interlocutore di aderire al Non Proliferation Treaty non vi fu risposta quindi la mia domanda è ambasciatore se tutta questa domanda fosse rovesciata lei come risponderebbe a questo? I didn't understand your remark about the weapon non ho capito il suo commento riguardo alle armi di Israele potrebbero entrare indisturbati da variare se non fossero messe in sicurezza io ho rovesciato come ha fatto l'ipotesi di prima ovviamente utopica del fatto che ovviamente questo vale per entrambi i paesi e ho anche ribadito la proposta se vi fosse la volontà di pace magari di aderire da parte di Israele all'NPT questa è una domanda ovviamente provocatoria e mi dispiace perché sembra come se quando si è a favore o contro qualcuno è sempre unilaterale invece qua stiamo parlando di una questione molto importante che riguarda entrambi i paesi riguarda la volontà di pace tra due stati tra due popoli e quindi il fatto che ogni volta che si inizia a parlare di Israele o Palestina sembra come se appena si cita una parte nel positivo o nel negativo automaticamente diventa pro uno contro l'altro e questo per me è importante perché per me non c'è nessuno a essere contrario a una parte o a essere favorevole all'altra è la volontà di trovare finalmente una soluzione di pace per entrambi i popoli grazie grazie ora diamo la parola all'onorevole Formentini grazie presidente e grazie ambasciatore di cuore noi come lega abbiamo una posizione chiarissima che però è utile un momento chiara volevo rispondere alla sua domanda scusa chiara prima che parte perché ho capito quello che dice quando lei dice che però che Israele è una minaccia perché detiene possiede armi credo che questo sia una cosa molto pericolosa quello che dice perché voglio dirle una cosa una volta se gli arabi depongono le armi appena lo fanno ci sarà pace se Israele lascia le sue armi non ci sarà più Israele quindi non c'è nessun confronto stiamo parlando di un paese democratico democratico come l'Italia e l'Italia non è folle e neanche Israele è folle ma quando si dà agli arabi o agli iraniani una bomba nucleare è un pericolo non solo per noi perché noi conosciamo gli iraniani sappiamo come combatteli voi non sapete sareste in pericolo voi quindi quando dice questo per me è un'offesa perché noi israeliani non siamo pari a questi barbari continuo si proseguiamo con l'intervento dell'onorevole Formentini poi comunque l'onorevole M come gli altri colleghi potranno seguire le risposte dell'ambasciatore successivamente abbiamo la web tv e anche il resoconto quindi gli altri comunque avranno modo di seguire quello che l'ambasciatore ci risponderà prego l'onorevole Formentini all'ambasciatore a Israele tutta la solidarietà della Lega di tutto il centro-destra sono orgoglioso di portarla perché quanto ha sottolineato l'ambasciatore è qualcosa di grave di grave perché in quest'Aula abbiamo assistito a un fiorire a un profluvio di interventi della maggioranza che era presente con una nutrita rappresentanza dall'onorevole Boldrini all'onorevole Cabras l'onorevole Migliore e infine l'onorevole M non c'è chiarezza nella maggioranza su Israele non c'è chiarezza sulla collocazione geopolitica del nostro Paese bisogna scegliere tra le dittature tra i regimi e le democrazie noi come Lega abbiamo scelto sosteniamo il diritto non solo di esistere ma di difendersi di Israele e come Matteo Salvini ha dichiarato siamo pronti quando torneremo al governo a riconoscere Gerusalemme capitale ma quello che non possiamo tollerare è il fatto che da qui non sia partita una condanna unanime verso quello Stato che vuole l'annullamento la distruzione la cancellazione dalla faccia della terra di Israele l'Iran abbiamo sentito anche in questi giorni le parole della Guida Suprema che dice che il regime sionista è un usurpatore che Israele è un tumore che liberare la Palestina è un dovere per l'Iran e così armare la Jihad islamica tanto a Gaza quanto in Cisgiordania ecco di questo avremmo voluto parlare non dei soliti cliché triti e ritriti triti e ritriti perché non sono arrivati a nulla ma anzi è continuato il terrorismo la proposta che oggi si discute di un piano di pace è una proposta innovativa una base di discussione sono stati posti sul tavolo anche 50 miliardi di dollari di aiuti è un tentativo di riconoscere la mutata situazione geopolitica del Medio Oriente con l'avanzata come dicevamo dell'Iran che cerca di cancellare Israele e con una nuova diplomazia di Israele verso il mondo arabo si può ignorare tutto ciò oppure si può riconoscere che questa evoluzione c'è stata e su queste basi cercare di costruire la pace tutti vogliamo la pace Israele ne sono sicuro vuole la pace non condanniamo i tentativi che vengano fatti solo perché sono al di fuori di ideologie ormai vetuste scegliamo tra Yezbollah e Hamas la libertà la democrazia Israele grazie grazie ora la parola all'onorevole quarta grazie presidente ringrazio anch'io l'ambasciatore per la sua relazione io parto da una cosa che citava anche il collega Formentini cioè la lettera che è assolutamente da condannare che ha scritto la guida suprema iraniana in risposta a una lettera di Islamil Anye leader di Hamas in cui si dice che appunto l'Iran non non risparmierà nessuno sforzo per eliminare l'entità sionista che è il modo in cui in Iran si chiama purtroppo Israele parto da qui per una ragione perché io credo che questa dichiarazione sia da stigmatizzare e sia da ribadire ancora una volta quanto per l'Italia sia importante che esista un diritto alla sicurezza dello Stato di Israele al tempo stesso però faccio eco alle parole di tanti colleghi noi riteniamo che il diritto a esistere dello Stato di Israele debba avvenire all'interno di un processo negoziale perché è difficile altrimenti garantire che Israele viva in sicurezza questa è l'opinione che l'Italia ha avuto come politica estera da Oslo a oggi il messaggio che ci arriva da Israele e attraverso le sue parole ambasciatore è un messaggio diverso e quindi io volevo capire per voi è cambiato qualcosa rispetto all'accordo di Oslo che voi come Stato avete firmato è sostanzialmente da considerarsi concluso quel paradigma di un mutuo riconoscimento per due popoli e due stati grazie grazie sono terminati gli interventi non so se c'è qualche altro collega che vuole iscriversi a parlare ma mi pare di no lascerei la prossima 25 minuti all'ambasciatore per rispondere alle vere domande visto che ne abbiamo avute più di una prego grazie a tutti con vostro permesso vorrei parlare vorrei parlare in inglese perché ancora è difficile per me parlare spontaneamente italiano nonostante che amo molto la lingua ma sto imparando sono molto lieto di aver potuto assistere a questo dibattito perché è prova dell'attenzione che voi ponete nei nostri confronti anche quando si tratta di ascoltare domande molto dure lo apprezzo veramente apprezzo ogni singolo intervento ogni singola domanda lo dico con la massima sincerità io appartengo ad una nazione che ama il dibattito un po' come il popolo italiano diciamo che c'è sempre piaciuto il dibattito sin dai tempi di Abramo nostro primo padre che si è messo a discutere con Dio riguardo il destino di Sodoma quindi gli ebrei hanno sempre discusso basta aprire una pagina del Talmud e devo ringraziare di cuore il governo italiano per aver investito in questo straordinario progetto ovvero la traduzione del Talmud in italiano e devo aggiungere che ho avuto il privilegio di parlare a una delle università qui a Roma proprio su uno dei volumi che è stato tradotto già in italiano ogni singola pagina del Talmud contiene questa formula che Friedrich Hegel ha coniato tesi antitesi e sintesi e questo 1500 anni prima di Hegel quindi a noi piace il dibattito e piace la discussione perché perché la verità può essere rivelata dopo aver ascoltato molte opinioni quindi vorrei rispondere forse non nell'ordine in cui sono state poste le domande e se dovessi dimenticare appunto di dare risposta vi prego di dirmelo perché non è che io stia cercando di evitare di rispondere ai vostri interventi alle vostre domande tutti hanno posto la questione della differenza tra azioni bilaterali e unilaterali vorrei dire un'eresia qui un po' come Galileo figura che ammiro moltissimo noi in Israele e non solo se noi analizziamo la storia in una prospettiva di breve e di lungo termine non è una questione di credenze è una questione di fatti la situazione nel Medio Oriente non ruota intorno al conflitto in Israele tra Israele e Palestina no quello che accade in Siria non ha nulla a che vedere con Israele ciò che accade ora in Libia Libia non ha nulla a che vedere con Israele ciò che accade ora in Iraq e in Libano in qualunque paese del Medio Oriente non ha nulla a che vedere con Israele anzi ciò che vediamo ciò che ho affermato è che lo Stato-Nazione che è un concetto occidentale ovvero quello di riunire insieme più amminoranze sta crollando invece di uno Stato-Nazione noi stiamo ritornando a quello che è la struttura primordiale della Regione che esiste da migliaia di anni tribù clan religioni e così via dicendo quindi questo non ha nulla a che fare con noi noi per cento anni abbiamo creduto che prima o poi i palestinesi avrebbero dato prova di voler risolvere la questione come ho già detto vi prego di andare a visitare due siti internet che traducono tutti i testi utilizzati nel mondo arabo e nella realtà palestinese almeno in inglese uno è memory m e m r y l'altro si chiama p m w palestinian media watch vi invito a consultare questi siti internet dopodiché mi direte se può esservi un futuro di possibile compromesso non parliamo di Hamas stiamo parlando di dell'autorità palestinese e questo è quanto intendevo quando ho detto voglio dire un'eresia i palestinesi non hanno mai voluto raggiungere un compromesso mai ecco adesso cercate di smentirmi perché io i fatti ce li ho e non sto parlando di lenonismo per citare john lennon imagine in altre parole assenza di nazioni di confini io parlo di fatti non hanno mai e poi mai accettato nessun tipo di compromesso se avessi più tempo vi potrei dare prova di mille evidenze che confermono la mia affermazione ma se vogliamo semplicemente fare un'ipotesi e vi invito a farla con me immaginiamoci che Israele sia pronta a offrire a loro tutto ciò che vogliono e poi per i cento anni successivi loro continueranno a dire di no ed è quello che noi ipotizziamo continueranno a dire di no per quanto ho detto prima perché loro preferiscono che gli ebrei non abbiano mai uno stato neanche in una parte del territorio ma immaginiamoci se secondo il vostro sistema per altri cento anni sentiremo i palestinesi continuare a dire no allora la mia amica Laura ha detto ma dobbiamo convincerli ma ci abbiamo approvato ci sono persone sagge mature che non vogliono essere convinti non vogliono trovare con noi un accordo ora non dovete necessariamente essere d'accordo con noi ma facciamo questo ragionamento partendo da questa ipotesi ovvero che continueranno a dire no per i prossimi cento anni allora noi cosa dovremmo fare continuare in uno stato di stagnazione ora in qualsivoglia scenario lasciamo da parte l'opinione del mondo la valle del Giordano sarà il nostro confine perché la storia ci insegna 80 anni fa la situazione era diversa 2000 anni fa eravamo erranti e aspettavamo la grazia della nazione per la nostra sopravvivenza nessuno ha bombardato Auschwitz la nonna della mex moglie la bisnonna dei miei figli è stata ad Auschwitz e quindi i miei figli sono quattro figli grazie a Dio quarta generazione Auschwitz il mondo non ci ha aiutati parlo di cose molto semplici sarebbe bastato bombardare Auschwitz o la linea ferroviaria e non è successo nulla di ciò quindi possiamo parlare di tutte queste cose ma solo oggi stamattina proprio stamattina il leader supremo la guida suprema Khamenei e cito ha affermato lo dico in italiano perché l'ho scritto in italiano solamente questa mattina Ali Khamenei ha risposto a una lettera del leader di Hamas Ismail Ania scrivendo nero su bianco che l'Iran non risparmiera alcuno sforzo per cito eliminare la diabolica minaccia sia onesta now ora voi pensate che questa dichiarazione verrà considerata solo come mere parole bene ricordiamoci quello che disse Hitler nel 1933 ci vogliono vogliono poi tre anni perché dieci anni scusate perché l'Europa arrivasse a capire che non intendeva solo eliminare gli ebrei noi abbiamo creduto nei dettatori nei dettatori in quello che dice l'autorità palestinese in quello che dice Hamas quindi per noi si può dire potete dire che non siete d'accordo va bene ma noi dobbiamo tener conto della nostra vita non della vostra quindi nella nostra analisi della storia della situazione geopolitica noi abbiamo un intelligence ottimo noi sappiamo quello che dicono anche dietro le scene loro non hanno mai voluto accettare un compromesso questa è la grande menzogna del novecento e le persone buone tendono a credere quello che dicono andate a negoziare quale negoziato vi ho parlato di tanti rifiuti da parte loro altri primi ministri hanno dato loro offerto di tutto e hanno detto sempre di no perché non hanno mai voluto uno stato indipendente per loro quello che volevano era di non avere uno stato indipendente degli ebrei per tante ragioni basta leggere quello che dicono migliaia di parole ci sono dove lo dicono chiaramente quindi quando diciamo il mio collega vi dirà darà tutte le carte che sono state rifiutate giusto perché lo sappiate chiaramente le persone razionali vogliono spartire dalla terra e basta ma se loro non accettano cosa dobbiamo fare dobbiamo aspettare perché hanno messo il veto sulla nostra storia sul nostro futuro no no in qualsiasi scenario e non so forse Laura tu hai parlato di Avramburg Avramburg non è un intellettuale ma in ogni caso ma in ogni caso Avramburg è un estremista radicale non c'è un accordo in Israele intorno alle sue posizioni forse fa parte della lista araba anche se è stato presidente del Knesset ma vent'anni fa ha cambiato le sue opinioni ma in ogni caso qualcun altro mi ha fatto questa domanda c'è un grande accordo un 90% degli israeliani degli ebrei un accordo sulla valle del Giordano qualcuno mi ha fatto una domanda riguardo a Gerusalemme davvero pensate che Gerusalemme Piero è stato Piero Fassino mi ha fatto una domanda riguardo a Gerusalemme amico mio ma lo dici seriamente pensi che noi possiamo di vedere Gerusalemme se c'è una ragione per cui anche ora facciamo parte della storia dopo 2500 anni di esilio dal sesto secolo prima di Cristo se c'è una ragione è Gerusalemme noi ebrei abbiamo inventato una cosa abbiamo un brevetto noi diciamo grazie a Dio per il cibo che ci dai ma non dimenticare di ricostruire Gerusalemme gli ebrei l'hanno dato ogni giorno per migliaia di anni andate a guardare quello che c'è c'è riguardo al tempio sull'arco di Tito Gerusalemme era capitale di di uno stato del mondo dopo il re David no quindi io ho fatto amico Piero ho fatto un sondaggio tre anni fa e ho fatto una domanda agli israeliani ho chiesto anche agli arabi una domanda una domanda semplice posso darti il link di questo sondaggio supponiamo che la Palestina fosse la Svizzera e ci sarebbe una pace eterna come in Svizzera una pace che dura in eterno supponiamolo e il prezzo sarebbe di dare loro Gerusalemme la vecchia città intendo il cuore della nostra nazione che cosa pensate che si dovrebbe fare forse non vi sorprenderà sapere che la maggioranza anche la maggioranza degli arabi hanno detto no non è possibile Gerusalemme deve rimanere nostra capitale per sempre e non ci importa il riconoscimento della nazione perché Gerusalemme c'era prima del cristianesimo prima dell'impero romano e prima dell'islam il fatto che e quindi possono non si può cambiare idea anche i rabbini di benedetta memoria ha mai sognato di fare questo quando Yehud Barak lo voleva fare non aveva non ebbe una maggioranza e si è dimesso quindi avete parlato di errori da parte dei palestinesi in base al nostro parere non ci sono stati errori l'errore è di trattarli come bambini noi li rispettiamo noi pensiamo che sanno quello che stanno facendo non hanno mai fatto un errore non hanno mai voluto io migliaia di documenti che dimostrano questo quando dite che i palestinesi devono riconoscere il diritto ad esistere di Israele è quello che ho detto io prima no questo non basta ho bisogno del loro ho bisogno del loro riconoscimento perché io possa esistere non ho bisogno del loro riconoscimento io voglio capire il loro grado di sincerità io voglio che riconoscano che noi siamo un popolo siamo una nazione con diritti sulla propria terra un diritto religioso storico legale anche su Tel Aviv anche su Tel Aviv soltanto Tel Aviv trovatemi un leader arabo che sarebbe disposto a dirlo e ci sarà la pace se si trova perché una volta che hanno un cosiddetto stato continueranno la lotta perché loro pensano che tutta la terra appartiene loro quindi non importa quello che si fa guardate i loro libri di testo scolastici non c'è Israele Israele non compare in quei libri di testo neanche Tel Aviv Tel Aviv per loro è un villaggio arabo e sapete cosa ogni volta anche questa è una truffa è una bugia ogni volta che loro dicono riconosciamo il diritto ad esistere di Israele aggiungono delle espressioni molto importanti insieme al diritto al rimpatrio quindi il diritto al rimpatrio vuol dire lo sterminio di Israele e Abu Mazen ha detto che c'è stato un dialogo qualche anno fa e in questo dialogo si è deciso che il diritto al rimpatrio è privato questo vuol dire che nessuno può fare determinare fare qualcosa in modo collettivo è una decisione che spetta ad ogni palestinese sappiamo che gli unici rifugiati al mondo che possono ereditare il diritto da padre in figlio sono i palestinesi quindi invece di 600.000 rifugiati dopo la guerra di indipendenza nel 1948 adesso ne abbiamo 5 milioni e nei prossimi 50 anni arriviamo a 20 milioni e sono soldi vostri voi li pagate la mia amica Laura dici che se il mondo intero è preoccupato cosa vuol dire il mondo diciamo l'Europa non si preoccupa della minaccia dell'Iran nei confronti dell'Europa ci sono molte opinioni che riguardano questo fatto quello che sappiamo è che negli ultimi 300 anni il pendolo della storia è cambiato per il nostro popolo siamo tornati a casa e la nostra casa è sempre stata Israele non è un caso che non c'era nessuna nazione in quella terra dopo il nostro esilio Palestina era il nome che il mandato britannico ha dato a questo territorio e questo dopo Adriano ma l'impero ottomano trattava Israele come un valaiat più grande quindi noi torniamo a casa e credo che sarà benefico a tutti al mondo anche per l'Italia qualcuno ha parlato del collegamento tra Italia e Israele noi abbiamo un collegamento veramente stretto una collaborazione stretta con l'Italia più che ogni altra nazione europea a livello di esercito di intelligence a livello di scienza abbiamo appena lanciato un satellite eccetera quindi anche se non siete d'accordo con noi noi vi consideriamo parte della nostra famiglia e noi si può anche litigare in famiglia va bene per il commento del collega Cabras ho detto bene mi è piaciuto molto il suo commento lei dice che l'annessione o la sovranità è un'azione nazionalista e dice anche che anche l'Italia ha agito in questo modo quando ha innesso il territorio di Roma sono sicuro che la maggior parte degli italiani non saranno d'accordo con lei però le dico una cosa io ho fatto molta ricerca su questa questione faccio ricerca da decenni che cos'è nazionale e che cos'è nazionalista io amo molto Giuseppe Mazzini Giuseppe Mazzini è stata un'ispirazione per il movimento sionista prima di Herzl quindi per noi essere una nazione non è una cosa che porterà al fascismo o qualcosa per noi essere nazione è qualcosa che continua anche in esilio anche gli ebrei di Roma per duemila anni hanno fatto parte di una nazione il nazionalismo è un'idea della Bibbia ed è questa l'ispirazione che ha animato l'Europa il fascismo non è un'idea ebraica ma il nazionalismo significa che tutti noi facciamo parte di un grande collettivo che può occuparsi dei suoi membri che può nutrire i suoi membri e occuparsi di loro è un concetto meraviglioso vuol dire che ci teniamo agli altri e questo è il principale insegnamento della Bibbia amare il prossimo ed è quello che ha ripetuto anche Gesù quindi secondo la versione ebraica il nazionalismo è una grande idea quindi quando si è accennato all'artificiosità di questo elemento ricordiamo che noi siamo la nazione più antica del mondo se siamo un artificio noi loro lo sono anche tutti gli altri quanto tempo mi rimane ho ancora cinque minuti è stata posta poi una domanda sulla sicurezza in questa aula il consenso è che se dovessimo andare avanti con questa azione si genererebbe instabilità nella regione non sono d'accordo e ho prove per dimostrarlo Israele è l'unica fonte di stabilità nella regione per cui se Israele appunto sarà una presenza lungo il valle del Giordano si vedrà una maggiore stabilità nella regione perché adesso i palestinesi rispetto agli arabi nella regione hanno una vita migliore perché non solo Israele protegge noi ma protegge anche loro perché vi assicuro che se non dovessimo esserci più allora il controllo finirà nelle mani di Hamas tutti gli esperti concordano non so se avete letto bene lo statuto nazionale di Hamas è uno statuto nazista perché secondo lo statuto di Hamas è obbligo per tutti i musulmani uccidere gli ebrei questa è Hamas pensate veramente che siamo abbastanza stolti da portare Hamas al centro della nostra terra voglio dirvi che per cent'anni abbiamo pensato che negoziando con i palestinesi sarebbe accaduto qualcosa e sarebbe stato possibile un accordo così non è stato quindi perché non fare il contrario ovvero un'azione unilaterale forse capiranno che il tempo non gioca a loro favore forse capiranno che l'Europa non ha una posizione a loro favorevole forse capiranno che hanno qualcosa da perdere ma come vi ho già detto se analizziamo le loro affermazioni da anni a questa parte ebbene è chiaro che non hanno mai voluto uno stato indipendente per loro volevano che non esistesse uno stato ebraico quindi per concludere permettetemi di fare tre brevi osservazioni per indicare quello che è il nostro possibile contributo ciò che possiamo fare quindi e passerò a esprimermi in italiano invece al più ampio contesto del Medio Oriente ci sono molti modi in cui l'Italia può contribuire operativamente e immediatamente alla stabilità regionale in primo luogo la Germania e l'Austria hanno recentemente vietato tutte le attività di Hezbollah sul loro territorio le Hezbollah sono coinvolti non solo nel terrorismo ma anche nel traffico di droga e nel riclaggio di denaro compressi i collegamenti con il maxi sequestro di droga che abbiamo visto di recente qui in Italia invitiamo l'Italia a compiere un passo simile promuovendo la sicurezza dei propri cittadini e contribuendo alla stabilizzazione del Libano e della ragione in secondo luogo l'Italia intrattiene buoni rapporti con la Turchia un'altra questione importante è il fatto che Hamas ha un centro operativo molto attivo in Turchia con la conoscenza e il sostegno delle autorità turche invitiamo invitiamo l'Italia a usare la sua influenza per sollevare la questione e sollecitare le autorità turche a fermare questa attività terroristica sul proprio territorio e l'ultima in terzo luogo la questione della proliferazione delle armi iraniane il 30 giugno il consiglio di sicurezza ha tenuto una videoconferenza sulle continue violazioni iraniane dell'embargo sulle armi la troica europea ha espresso profonda preoccupazione per le attività di proliferazione dell'Iran che riversa armi in Iraq Yemen Siria Libano Libia Gaza e altri l'embargo sulle armi dovrebbe scadere il 18 ottobre quindi l'Iran sarà libero di acquistare e vendere armi destabilizzando gravemente l'intera regione come ho detto solamente questa mattina Ali Khamenei ha risposto a una lettera del leader di Hamas Ismail Ania scrivendo nero su bianco che l'Iran non risparmierà risparmierà grazie alcuno sforzo per cito eliminare la diabolica minaccia sionista fine della citazione dichiarazioni che arrivano dopo quelle di fine maggio in cui lo stesso Khamenei dichiarava di voler armare tutta la giudea samaria palestinese così come ora l'Iran fa con Gaza chiediamo all'Italia di sostenere l'iniziativa americana di estendere l'embargo sulle armi e come ho detto una volta che gli arabi e i palestinesi abbandoneranno le armi vi sarà pace ma se Israele non dovesse avere più le armi non ci sarebbe più lo Stato di Israele dobbiamo mantenerle perché Israele è la prima frontiera per tutta la civiltà giudeo-cristiana ho molto apprezzato l'invito che mi è stato rivolto e sarò lieto di mantenere i contatti con tutti voi potete chiedere i miei contatti per futuri scambi di opinioni grazie ringrazio la Presidente ancora una volta per l'invito e buongiorno grazie ambasciatore dichiaro conclusa l'audizione e chiedo ai colleghi di rimanere per il proseguimento dei nostri lavori grazie grazie salmi ti ti saluto te?